Ciao a tutti, siamo alla fine della seconda giornata di questa bellissima esperienza. Come vedete non ci stiamo annoiando. La cosa bella è che comunque questi meravigliosi diamanti, queste anime diamante oggi hanno veramente iniziato a ricevere dei messaggi incredibili. Ho visto che comunque ciascuna di loro ha fatto veramente un salto in avanti che io stessa non avrei mai potuto immaginare. E quindi adesso chiediamo a loro com'è andata la giornata. Diciamo che la timidezza quella non l'hanno ancora superata. Adesso parla tu, parla tu dai Silvia che ci ha già fatto un po' l'abitudine. E' stata una giornata molto intensa, molto importante secondo me. Abbiamo scoperto effettivamente di avere la possibilità di ricevere questi messaggi che non è poco. Abbiamo preso fiducia anche nelle nostre capacità e siamo aperte a vedere che cosa succederà. Alessandra, tu parla. E non ce la farò mai, non ce la farò mai. Invece sì, sembra che qualcosina si sia mosso dalla sua... Come qualcosina? Scusate, qualcosa più di qualcosina mi è sembrato. Però vedremo domani le conferme. Cosa ne dite di Alessandra? Come è andata oggi? Bravissima. Bravissima. E' un po' modesta. Mi sta venendo un po'. Lei deve superare una paura, adesso gliela facciamo superare. Mi sta dando cacchere al dito. Dai. Com'è andata? Manuela, dai. Non sono ispirata. Se no te lo facciamo rifare. Tutto per te. Dai, parla prima tu Elisa. E la facciamo parlare dopo. Lei intanto si ispira, che c'è in estetica. Non ce lo faccio più. Numero due. E' stata una bellissima esperienza oggi. Sto acquistando un pochettino di fiducia. Stanno arrivando delle belle cose. Quindi sono felicissima di questa giornata. Grazie. Bene. Nicoletta. E' stata molto emozionante la giornata di oggi. Si sono aperti i nostri canali e io ho sentito un'espansione tra di noi, un grande amore che ci ha volto. Molto, molto bene. Grazie. Sei ispirata a Manuela. No, no, niente. Non vuole parlare. Comunque noi ci siamo veramente divertiti. Abbiamo lavorato un sacco intensamente. Abbiamo anche fatto un sacco di lavoro che non ci saremmo aspettate. E quindi siamo molto grati di questa bellissima esperienza. Adesso andiamo a fare una cosa magica. E nessuna di queste bellissime anime diamante ha la più pallida idea di che cosa andremo a fare. Ciao. Ciao.